Ed eccoci tornati in diretta, in studio, con un ospite che ci farà, diciamo, sorridere e tranquillizzare, dopo aver parlato dei problemi del nostro territorio, ora parliamo delle sue eccellenze che vengono esportate all'estero, infatti abbiamo qui con noi Marco Virgili. Salve, buonasera a tutti. Ecco, Marco Virgili, in arte Mark Zitti, è un cantante frontman dei Fratelli Coltelli e tra l'altro lui è molto famoso all'estero, in particolare a Dubai, negli Emirati Arabi, dove tra l'altro si occupa anche di raccontare ciò che è di bello delle nostre imprese, il Made in Italy, e di fare da promoter dei prodotti del nostro territorio, giusto? Sì, diciamo che la nostra avventura è iniziata circa sei anni fa con con la mia band che si chiama Marzitti e Fratelli Coltelli, una band totalmente marchigiana, con qualche innesto di qualche romagnolo, emiliano, a volte quando mancano i musicisti, perché suoniamo anche in periodi invernali o magari in periodi nei quali chi non può soltanto fare musicista insegna anche a scuola, quindi prendiamo dei sostituti, tra virgolette, sempre molto bravi. Per l'appunto, dicevo, abbiamo iniziato sei anni fa con questa band che si chiama Marzitti e Fratelli Coltelli, promuovendo lo swing italiano negli Emirati Arabi. Un'avventura che ci ha dato l'opportunità di esportare la cultura italiana, ma non solo, quindi anche essere brand ambassador di quelli che sono i marchigiani, scusate la ripetizione, di eccellenza in vari settori, da quello che riguarda la scarpa, per l'appunto, oppure i vestiti, ai papillon artigianali o comunque dell'artigianato luxury che a Dubai viene molto apprezzato. Ecco, e tra l'altro adesso sei coinvolto in un progetto particolare, Dubai Taste Fermano? Taste Market, in particolare il Fermano naturalmente, io sono di Porto Sant'Elpidio, quindi a tutti gli effetti Fermano. Abbiamo, ho avuto questa opportunità, mi è stata data da questo connubio che è nato tra tipicità, quindi un format, un incubatore, ormai che ha 25 anni di notorietà, di esperienza sul territorio, che ho avuto il piacere di invitare a Dubai due anni fa per poi iniziare una collaborazione fattiva e fattuale negli Emirati Arabi. L'anno scorso Alberto Bonachesi è venuto, diciamo, in missione e quest'anno una delegazione ben fornita ha fatto parte del format culinario più importante di Dubai, che è lo Speciality Food, all'interno della fiera più importante del food a novembre. In quell'occasione tipicità ha portato molte eccellenze sia del food che naturalmente del fashion e di contro in questa fase dell'anno, quindi marzo, è stata tipicità di invitare un po' di Dubai nelle Marche. Un corner, quello che sarà presente a tipicità, chiamato per l'appunto Dubai Taste Marche, quindi un momento di incontro tra due mondi apparentemente così diversi, ma che hanno delle aderenze che riguardano per l'appunto la qualità. A Dubai sono molto apprezzati i nostri prodotti, come diceva poco fa il Presidente della Camera di Commercio di Fermo e l'eccellenza in generale marchigiana soprattutto. Ecco, quindi a Dubai c'è un atteggiamento molto positivo nei confronti dei nostri prodotti. Come hai trovato, diciamo, le possibilità per i nostri imprenditori a Dubai? Allora, premettiamo che a Dubai c'è un'area molto frizzante, quindi dove si può spendere si guarda al bello e noi siamo veramente dei campioni nel produrre il bello. In più settori, non soltanto in quello del luxury, abbiamo delle aziende italiane, marchigiane, ormai che da anni sono delle certezze in vari settori, parlo dell'illuminazione dei guzzini o le pompe idrauliche, come possono essere fagiolati nel maceratese. Quindi aziende importanti, da più di 200 dipendenti. Quindi lo spettro, diciamo, industriale barra artigianale che può competere sul mercato come quello di Dubai, negli Emirati Arabi in generale e nel MENA è molto positivo. Ecco, la tua esperienza è particolare perché comunque tu sei un artista, vediamo adesso anche alcune immagini che ti riguardano, ma su questo poi ne parlerai più approfonditamente con Dario Aspesani perché qua è la sorpresa, nel senso che Marco resterà con noi qui a incontri e poi sarà anche ospite di Dario Aspesani, non da subito dopo di noi. Quindi tu sei passato, diciamo, dall'essere un artista e continui ad esserlo, ma ad essere anche un rappresentante dell'Italia negli Emirati Arabi. Sì, sì, abbiamo toccato, parlo sempre a plurale perché appunto Marzitti, Fratelli Coltelli e poi dopo alla fine chi si sbatte tra i corretti sono sempre io, però dalla musica siamo passati a essere un po' ponte e veicolo di italianità nel mondo. La musica ha la bellezza, la magia della musica è quella di abbattere completamente i filtri, quindi magari ti trovi di fronte a gente veramente di livelli quasi marziani per noi e a parlare in maniera tranquilla del più o del meno e a sponsorizzare delle eccellenze nostre. Come Marco Vergili sono riuscito a vendere delle biciclette fatte a Civitanova in legno bellissime da due artigiani che l'hanno fatta con le loro mani nel garage di casa piuttosto che promuovere i papillon fatti in legno da un artigiano che lo stesso lavora in garage oppure i vestiti, andare dentro al Burj Khalifa, quindi il Tempio di Armani e farsi fare i complimenti per le scarpe che si indossano con la band, comunque ha una connotazione tutta particolare. La musica quindi è stata un po' l'ariete fatto da apri porta, da apripista per quello che è l'export del fashion, del luxury, non ultimo del food and beverage perché avendo suonato inizialmente come band ufficiale del summit degli chef stellati per i primi due anni, poi siamo arrivati a fare un connubio con quello che è la cucina italiana nel mondo, quindi nel circuito degli chef stellati appunto su Dubai in un momento molto importante, un momento forse più alto della rappresentanza italiana negli Emirati Arabi e come passo successivo poi mi è stata data l'opportunità di essere direttore artistico del summit stesso, quindi di portare artisti dalle marche a Dubai e qualche anche particolarità nostra come possono essere gli sbandieratori di fermo che ho avuto il piacere di invitare, di ospitare durante il gala del summit per l'appunto. Quindi gli sbandieratori di fermo a Dubai sono rimasti con la bocca aperta Ali? Anche il contrario nel senso che vedere comunque gli sbandieratori in un posto come quello del Dubai World Trade Center, quindi parliamo della fiera più importante, una delle fiere più importanti al mondo, in uno spazio di entrata per una serata di gala dove erano presenti altissime altissime autorità, ambasciatori, naturalmente local, quando dico local intendo arabi che fanno capo comunque alla famiglia reale e ministri nella fattispecie italiani, c'era rappresentante il ministro Martina, il sottosegretario Scalfarotto, quindi abbiamo avuto delle eccellenze nelle eccellenze che sono entrate in questa serata di gala sotto le bandiere fermane, quindi è stata molto bella come esperienza, anche molto forte perché comunque la gente che usciva dalla fiera vedeva questi sbandieratori, questi ragazzi vestiti in maniera molto particolare, lanciare in alto le bandiere, riprendere, fare dei movimenti strani, è stato molto bello e emozionante. E adesso ormai ci siamo, il 4, 5, 6 marzo, come il nostro pubblico ben saprà, ci aspetta tipicità al Fermo Forum e ci sarà questa delegazione di Dubai. Sì, abbiamo invitato insieme a tipicità tre personaggi molto importanti, influenti, il presidente della Camera, il segretario generale della Camera di Commercio Mauro Marzocchi, che sarà per l'appunto un baluardo per le aziende che vogliono capire come funzionano i mercati di Dubai e questo per quanto riguarda proprio le società che fanno, che hanno le più disparate mire, quindi che ne so, dall'illuminazione alla produzione di sedie piuttosto che utensili. Poi avremo Rosario Scarpato, CEO del Summit degli Chef Stellati per quanto riguarda il food e un'altra presenza importante che è quella di Simone Luca Cagliati, che è il sommelier più importante di Dubai, che ho invitato per l'appunto per un convegno specificatamente per i vini marchigiani all'estero, che illustrerà quali sono le potenzialità del mercato degli Emirati Arabi per i nostri produttori. Ecco, tu a Dubai ci vivi stabilmente per molti mesi all'anno? Sei, sei mesi all'anno diciamo. Quindi come trovi la realtà di Dubai? Com'è vivere lì? È molto caotica. Dubai è una città, essendo una grande città, si sviluppa in lunghezza, è una città che cambia e in evoluzione continuamente, come in tutte le grandi città alcuni problemi, come possono essere il traffico, eccetera, ma che comunque danno possibilità infinite a tutti coloro che hanno voglia di fare qualcosa da dire nei vari mercati. Io sono innamorato, estremamente innamorato di questa città che mi ha dato tantissimo, da tutti i punti di vista abbiamo avuto il piacere di suonare in qualsiasi location di livello di Dubai, io vedo un grattacielo, dico lì ci ho suonato con la band, lì ho fatto questo, lì ho fatto quest'altra cosa. In sei anni essere protagonisti in una città che fa quasi tre milioni di abitanti, essere riconosciuto e riconosciuto è comunque una grossa soddisfazione. E tra l'altro Dubai sarà la città della prossima Expo Mondiale, come si sta preparando? Beh, il ricordo più forte che ho è importante che anni fa già vedevo i picchetti messi nel deserto con le bandierine, quindi loro già stavano avanti da questo punto di vista, sapevano già come comportarsi, cosa fare e stanno costruendo una città nella città, nel vero senso della parola, perché comunque saranno previsti più di 25 milioni di visitatori e 180 delegazioni nazionali. Il fermento è incredibile e in questi tre anni possiamo veramente, anche l'Italia può fare la sua parte per questo evento mondiale. E le marche possono darsi da fare in questo? Tu sarai l'ambasciatore? Io farò tutto quello che posso, come sto facendo per questi anni che verranno. Questo corner, tipicità per l'appunto, è finalizzato, una parte è finalizzata anche a questo, per creare i presupposti per esportare le marche il più possibile in maniera strutturata, coordinata, perché comunque muoversi in certi mercati non è solo dispendioso a livello di tempo, ma anche a livello di denaro. Quindi se le cose vengono fatte in maniera coordinata, ma ricoadiuvate anche da un'associazione, un incubatore come può essere Tipicità, ormai strariconosciuto sul territorio, può essere un format vincente. Ecco, quali saranno, se ci sono eventi specifici che riguarderanno Dubai a Tipicità, perché comunque le giornate di Tipicità sono tre, sono ricche di eventi, chi fosse interessato agli Emirati Arabi? Noi saremo presenti con uno stand per tutti e tre i giorni, quindi 4, 5 e 6 marzo, dalla mattina alle 9 saremo presenti. Poi la giornata del 6, quindi lunedì, diciamo sarà la giornata più istituzionale, per gli addetti ai lavori, tra virgolette. Quindi è in quella giornata che coloro che vogliono avere delle informazioni su Expo, sul vino, sul food e sulle dinamiche e diciamo modalità per accedere a quel mercato dovrebbero puntare. Il 6 e il lunedì 6 vi aspettiamo, insomma. Dicevi vino e food, però anche altre aziende di qualsiasi settore merceologico? Fashion, fashion, food, ecco, qualsiasi tipo di azienda che ha un'eccellenza specifica nel suo campo. Noi siamo bravi in tanti campi, nell'utensileria, nella minuteria. Marchigiani sono bravi a fare molte cose, quindi nella nautica non ne parliamo. Proprio adesso c'è il boat show e in questo momento a Dubai la nautica italiana la fa da padrona, da Benetti a Fincantieri. Quindi possiamo fare molto da tutti i punti di vista. E allora ricordiamo ai nostri telespettatori, se visiteranno tipicità di non perdere lo stand di Dubai, degli Emirati Arabi, dove ci sarà anche Marco Virgili, oltre ad altre personalità e persone che vi possono dare informazioni. Noi vi salutiamo, con FM Incontri abbiamo concluso, ma Marco Virgili resterà qua perché, come preannunciato, la sorpresa è che con Dario Aspesani parleranno della sua carriera e di tante altre cose.